Veselè in Borgogna, in Francia, costruita all'inizio del dodicesimo secolo e in Medioevo un famoso luogo di pellegrinaggio, anche uno dei principali punti di partenza per il pellegrinaggio a Compostella. Ha una navata romanica e un coro gotico, entrambi molto pieni di luce. La navata è più luminosa della maggior parte degli interni romanici. È orientata all'est, come la maggior parte delle chiese e, come sappiamo, c'è una ragione teologica per questo, come scrive Onorio Diotan, sempre nel dodicesimo secolo. Le chiese sono orientate verso oriente dove sorge il sole, perché in esse si venera il sole di giustizia ed è a oriente che si trova il paradiso, la nostra casa, come è stato annunciato. La chiesa è simbolo della chiesa, riunita in essa per il servizio di Dio. C'è un ritmo visivo nella navata che è creato da questi archi a strisce, in modo che abbiamo un doppio orientamento, verso oriente e verso l'alto. E questo essere orientati significa proprio per l'uomo conoscere la propria destinazione, avere la memoria del paradiso, del regno di Dio. Come scrive Romano Guardini nella sua opera La fine dell'epoca moderna, l'uomo medievale vedeva i simboli dappertutto, ogni forma diviene un simbolo e dirige gli sguardi verso ciò che supera la forma. Ma così la... questo adesso non si muove. Aiuto, aiuto. Quindi, sì, sappiamo che appunto l'architettura romanica lavora con queste forme geometriche, il cerchio e il quadrato. Il quadrato che rappresenta la terra, cioè i quattro direzioni terrestri, mentre il cerchio che non ha inizio, non ha fine, simboleggia il cielo, l'eternità, fuori da tempo, fuori da spazio. Il passaggio fra cerchio e quadrato è la croce. Il senso dell'architettura romanica è proprio quello di quadrare il cerchio, cioè di tradurre anche nel linguaggio dei simboli architettonici questa divina umanità che ci è stata rivelata tramite la Pasqua di Cristo. Quindi ecco perché la croce. E c'è ancora un'altra cosa interessante riguardo la la luce in questa chiesa. Circa 40 anni fa un padre francescano, Yuch Delotre, che aveva prestato per decenni servizio a Veselè, ha scoperto che non solo l'orientamento della chiesa, ma anche la sua struttura interna è determinata in modo tale che si tiene conto della posizione della terra rispetto al sole. Quindi le misure sono scelte in modo tale che due volte all'anno si forma uno spettacolo della luce, cioè a mezzogiorno del solstizio d'inverno la luce cade esattamente su questi capitelli. Invece a mezzogiorno del solstizio d'estate si forma un cammino della luce in mezzo alla basilica. Ecco qui qualche foto di questo cammino della luce è significativo che il cammino inizia proprio con la figura di Giovanni Battista, la cui festa celebriamo il solstizio d'estate, che conduce verso altare, verso Cristo. Io devo diminuire e lui deve crescere, diceva Giovanni Battista. Ecco, i studiosi non sono tutti d'accordo riguardo al fatto se c'era intenzione o no di questi effetti, ma anche se fossero del tutto casuali, manifestano comunque una straordinaria cooperazione tra Dio, l'uomo e il cosmo in questa architettura medievale. E solo per un piccolo esempio di una simile alleanza che può ripetersi, questa è un'opera che si trova nell'annunziatura di Beirut, annunziatura apostolica di Beirut e vedete che cosa succede ad un certo punto nell'anno, anzi esattamente questa foto è stata scattata il 24 dicembre del 2017, dove il raggio del sole si unisce in qualche modo a quella stella che nell'arte va e non era pianificato naturalmente, è capitato, succede qualche volta questa bellissima alleanza tra l'opera umana e l'opera del cosmo. Ma torniamo a Veslè e ci fermiamo un attimo su uno di questi più di cento capitelli figurati che tutti insieme in un modo organico raccontano la salvezza dell'uomo. Prendiamo questo che secondo il parere comune è il più bello. La scena è apparentemente molto semplice, c'è un uomo che versa del grano dentro un mulino e un altro uomo che ne estrae la farina qui in questo sacco. Quindi potrebbe anche essere preso per una scena della vita quotidiana. Il suo significato sfugge alla compressione perché non si collega né a un episodio biblico e né a qualche aneddoto, però grazie ai versi scritti da Suggerio nel dodicesimo secolo sappiamo che questa scena ha un senso molto più profondo. Dice Suggerio spingendo la mola Paolo trai dalla crusca farina, fa noti gli aspetti interiori della legge mosaica, genuino, privo di crusca, si formi da tanti chicchi il pane, cibo perpetuo per noi e per gli angeli. Questi versi si riferivano a una delle vetrate di Saint Denis che oggi è scomparsa e invitavano a passare dalle cose materiali a quelle immateriali, rappresentando Paolo che fa girare una macina da mulino e i profeti che portavano i sacchi al mulino. Quindi questo tema che di per sé era raramente raffigurato nell'arte cristiana era conosciuto come mulino mistico. Si tratta di una sintesi della dottrina dell'unione dei due testamenti, il grano dell'antico testamento interpretato in modo simbolico poi da San Paolo diventa farina per la nuova alleanza che è cibo per gli uomini. Questo pensiero era espresso anche da altri in altri luoghi, ad esempio in un'altra chiesa romanica, San Trofima d'Arl, dove San Paolo presenta questa iscrizione, una iscrizione proprio, ciò che la legge di Mosè nascondeva, la parola di Paolo lo svela. Il grano dato al Sinai è diventato tramite lui farina. Ecco, si potrebbe anche sviluppare ancora di più questa lettura simbolica e osservare dettagli come, non so, questo mantello che indossa Paolo. Vedete che non si capisce se è vestito o svestito, no? E anche qui uno potrebbe ricordare le parole di Efesini 4, 22, 24. Bisogna deporre l'uomo vecchio e rivestire l'uomo nuovo che è Cristo. Ecco, questo solo per dire che nell'arte romanica non si sviluppano dettagli solo per atterrare l'attenzione. Se c'è un dettaglio è perché è legato in qualche modo al contenuto, no? Si tratta veramente di un'arte dell'essenziale, senza inutili decorazioni che confondono e distraggono. Se ci sono dettagli, ci sono perché sono legati al contenuto teologico. Poi un altro dettaglio che si può osservare è questa ruota del mulino che è fatta anche in un modo un po' strano, non è allineata esattamente, però è fatta in modo tale che coglie la luce del mattino. Quindi proprio la luce si posa su questa croce dentro il cerchio del mulino perché il mulino è Cristo, il grano macinato è Cristo, il grano non può essere mangiato se prima non si toglie la buccia e così succede con la passione di Cristo, no? Che viene fuori il nucleo, la farina dalla quale si fa il pane. Con la sua morte in croce si rivela pienamente l'amore del padre che prima era nascosta all'umanità. Ecco, seguendo quindi questa interpretazione della concordanza dei due testamenti possiamo leggere il messaggio principale di questo capitello. Mosè mette nel mulino un sacco di grano che per diventare farina e pane da mangiare dovrà prima essere macinato, così come è necessario che Cristo sia crocifisso perché la sua carne e il suo sangue diventino cibo di eterna salvezza. Quindi l'Antico Testamento prepara la venuta di Cristo, lo preannuncia, lo attende, in qualche modo lo contiene già, però come il grano non può nutrirci se prima non è macinato, se prima non diventa farina, così l'Antico Testamento, anche se contiene già tutto, non può dare salvezza all'umanità, non può darci la vita. È necessaria la venuta di Cristo, è necessaria la sua passione, la sua resurrezione. Ecco, solo un piccolo esempio della ricchezza di contenuti teologici sintetizzata in una sola, in un solo capitello. Ecco, dedichiamo qualche minuto anche al timpano che si trova nel passaggio fra Nartece e la navata principale. La prima cosa da notare quando parliamo dei timpani romanici, di questo, di qualsiasi altro timpano, è che non si tratta di una scultura singola, ma di una composizione organica che in realtà è tutt'uno con l'architettura. Arte e architettura fanno alleanza per comunicare insieme qualcosa. Cosa rappresentano? Di nuovo, non è una semplice traduzione di un testo evangelico, ma una ricca sintesi teologica. Qui possiamo riconoscere la Pentecoste, la missione degli apostoli e tutto questo in una chiave escatologica. Dico escatologica perché vedete che Cristo è qui seduto su un trono che in realtà è composto come se fosse una città. La Gerusalemme celeste, naturalmente la città santa, che scende dal cielo da Dio. Da notare anche le proporzioni, no? Cristo così grande, le altri personaggi, gli apostoli più piccoli, gli altri personaggi ancora più piccoli. Quindi non si fa problemi l'arte medievale a sottomettere la forma al contenuto perché la sua esperazione non è nella natura come tale, ma nella contemplazione del senso della natura. La regola della proporzione non ha molto peso, quindi quello che è più grande è quello che conta di più, quindi Cristo. E un'altra cosa, Cristo circondato da una mandorla, questo era fin dall'antichità, il modo per indicare che si tratta di un luogo che non è luogo, che è fuori dal nostro luogo, fuori dal nostro tempo, simile al cerchio, al di là del nostro tempo, quindi già nella gloria, già presso il Padre. C'è un movimento di discesa e ascesa su questo timpano. Cristo sta salendo al Padre, perciò lo Spirito Santo può scendere e coinvolgere tutta l'umanità in questo movimento. No, vediamo i raggi dello Spirito che io vi ho colorato qui per renderli più visibili, che scendono dalle mani di Cristo per poi coinvolgere l'umanità. C'è anche un vento che sembra attraversare le figure come un'energia divina che mette tutto in moto. Le vesti di Cristo, soprattutto, hanno proprio un movimento esplicito che è rivolto verso l'esterno e poi verso l'interno, centrifugo e centripeto. I discepoli sono inviati a diffondere la buona novella. Tutti e tutto deve essere raggiunto da questa parola di Dio che è un po' simboleggiata nei libri che portano in mano e tutto sarà spostato verso Cristo, per mezzo dello Spirito Santo, in Cristo, verso il Padre. Questo è il movimento di tutta la vita cristiana. Su questo trumò, sotto il timpano, vediamo Giovanni Battista e questo ci aiuta ad aggiungere a questa scena anche una lettura battesimale. Come Giovanni battezzava con acqua, voi invece sarete battezzati con lo Spirito Santo, dicono gli Atti degli Apostoli, 1-5. Prima della rivoluzione francese saremmo stati in grado di vedere qui anche l'agnello nelle braccia di Giovanni Battista. Sì, la lettura di questo grande timpano principale è completata da due più piccoli laterali che sono dedicati uno al mistero dell'incarnazione, di annunciazione, natività, l'adorazione dei magi e l'altro alla risurrezione, quindi l'apparizione dei discepoli di Emmaus, l'ascensione. I spazi, sì, questo per dire che di nuovo c'è il collegamento, c'è lo stesso Spirito Santo che ha formato il corpo di Cristo nella Vergine, che ha guidato la sua missione terrena fino all'ascensione, oggi è dato alla Chiesa e sta ancora formando il corpo di Cristo da tutti coloro che siamo battezzati, nutriti con l'Eucaristia. Ora i spazi, tornando al cimpeno centrale, i spazi intorno sono occupati dai popoli, tutti quelli che nel dodicesimo secolo immaginavano essere i popoli della Terra, non so, a partire dai parti medi e lamiti presenti nel giorno delle Pentecoste fino all'immaginazione dell'epoca dove evidentemente c'era anche una esagerazione nel rappresentare le caratteristiche di diversi popoli esotici. Qui vi faccio vedere proprio qualche piccolo esempio i pigmei che hanno bisogno di una scala per riuscire a salire sul cavallo o i cinocefali con la testa del cane che è una tipologia del carattere, pare che questi erano particolarmente difficili da convertire, i cinocefali. Invece dall'altra parte ci sono quelli che sono molto aperti all'ascolto della parola perciò hanno orecchie enormi. Il messaggio che possiamo leggere di tutti questi popoli che circondano questa gigantesca figura di Cristo è che Lui è il Signore di tutto il cosmo. Se andiamo ancora più all'esterno, vi ho colorato anche la fascia più esterna del timpano, troviamo invece i lavori, scusate, i medaglioni con zodiaci e con i lavori dei mesi. Questo per affermare che Cristo è il Signore anche del tempo. Quindi alcuni esempi, un pastore per aprire, un soldato che si riposa prima della partenza che rappresenta il maggio, un falciatore che rappresenta giugno, un mietitore luglio e così via. Tutto fa parte di un insieme organico. Guardini, parlando dell'organicità del Medioevo, dice che il tempo liturgico congiunge, e cito, in un'unità inesauribile l'anno solare con i suoi ritmi, l'anno della vita con le sue stagioni e la vita di Cristo come ciclo del sol salutis. Alle feste di Cristo si aggiungono poi le feste dei Santi, nei quali in certo modo si riassume la storia cristiana. È un tutto che si svolge di anno in anno nella liturgia di ogni chiesa e costituisce il ritmo periodico della parrocchia o del santuario. E poiché gli avvenimenti della famiglia e della vita individuale, nascita, matrimonio, morte, riposo, cicli di lavoro lungo l'anno, settimane, giorni, si articolano nel corso dell'anno liturgico, l'ordine di esso opera fin negli estremi movimenti della vita. Ecco, questo per capire come l'uomo medievale si poneva davanti a un'opera del genere. I punti estremi di questo arco esteriore ce lo dimostrano. Sono due modaglioni, che qui vi ho colorato di giallo, ma adesso li facciamo un pochino più grandi. Quindi gli ultimi due medaglioni non sono, non fanno parte esattamente dei lavori, dei mesi o dello zodiaco, ma sono un uomo che taglia il pane e un uomo che porta una coppa di vino. Quindi il pane e il vino racchiudono il lavoro di tutto l'anno. Il pane, simbolo della vita quotidiana, il vino, simbolo della festa, esprimono tutto ciò che noi possiamo portare come offerta all'Eucaristia. Perché con pane e vino portiamo tutta la nostra vita e riceviamo in cambio corpo e sangue di Cristo. Quindi l'architettura e l'iconografia della Chiesa ci aiutano a contemplare con gli occhi nostri, carnali, quella trasfigurazione della vita alla quale partecipiamo grazie all'Eucaristia. Quindi dentro la Chiesa l'uomo scopre il senso di tutto il cosmo, di tutto il suo lavoro, della materia, di tutto ciò che esiste, di tutto ciò che gli capita. Non una fotografia dunque, ma una visione trasfigurata del mondo. Ecco, questo è ciò che fa l'arte romanica come altre epoche forti di arte liturgica. Favorisce una conoscenza simbolica, crea uno spazio di comunicazione con il mistero. Cosa intendo quando dico conoscenza simbolica? Cosa capiamo quando diciamo simbolo? Ecco, lo sappiamo tutti, ma solo per ricordare che dal sin balen noi possiamo trarre il lanciare, coinvolgersi, mettersi in movimento insieme, con, no? Quindi una relazione, un insieme, un accordo. Il verbo simbalene può dunque significare raccogliere, riunire, ma anche creare ospitalità. A differenza di diabalein, che è dividere e screditare, quindi il diavolo che separa ciò che invece dovrebbe essere unito. Quindi conoscenza simbolica si intende una conoscenza che ti coinvolge, che ti muove, che ti fa incontrare con il conosciuto. E che cosa fa di un'opera d'arte un'arte simbolica? Io prenderei come criterio proprio questo creare ospitalità, questa capacità di aprire uno spazio di relazione, di comunicazione, e lo possiamo scoprire a rovescio, se mi permettete, che cosa nelle opere d'arte liturgica dà più fastidio? Cioè, quando abbiamo delle epoche di iconoclasmo o di persecuzione, che cosa si va a distruggere? Ho messo qui a posta Giovanni Battista di Veslè insieme a un affresco della Cappadoccia, là dove non si può distruggere tutto, almeno si deve spegnere lo sguardo, il volto, no? Quindi ciò che esattamente ti mette in contatto, ti mette in relazione. Gli occhi e i volti, ci sono tantissimi esempi nella storia dell'arte, di opere distrutte. mi ha colpito quando ho visitato Istanbul un po' di anni fa, anche lì dove non riuscivano più a salire, buttavano le pietre, no? Per colpire gli occhi. Ecco, e possiamo poi scoprirlo dall'accoglienza dei fedeli. La venerazione, quindi, delle sacre immagini. Qualcuno dice che la vernice finale su un'opera d'arte liturgica è proprio la preghiera dei fedeli. Cioè, se non avviene questa accoglienza da parte dei fedeli, qualcosa è mancato, qualcosa è andato storto. Perché ci sono diverse tappe di come l'amore di Dio passa dentro una tavola di legno, dentro le pietre di un mosaico, con la creazione stessa, in primo momento, con il lavoro dell'artista, ma anche con la preghiera dei fedeli. Quindi, se questa terza parte viene a mancare, abbiamo delle opere incompiute. A me piace tanto citare la cosa che ha fatto capire a me che cosa è un'opera d'arte liturgica. Ed è stato un bambino di due anni e mezzo che me l'ha insegnato, figlio di uno di questi artisti che fanno questi volti, che ha la domanda che cosa fa tuo papà, rispondeva Amen. Cioè, mio papà fa opere d'arte davanti alle quali si prega di Amen. Ho detto, questo ha capito tutto, con l'essenziale. l'essenziale. Quindi, se questo manca, qualcosa non ha funzionato. Questo criterio della Chiesa, della comunione, ci aiuta forse a chiarire di più anche quello che abbiamo detto ieri riguardo alle qualifiche dell'artista. Certamente c'è un'attesa nei confronti dell'artista quando si tratta di creare l'opera d'arte per la liturgia. Beato Angelico diceva, chi lavora per Cristo deve sempre tenersi con Cristo. O Michelangelo, credo che sia necessario per l'artista di condurre una vita molto cristiana o addirittura santa, se può, affinché lo Spirito Santo lo ispiri. Quindi quando l'artista raffigura Cristo, quando si occupa dell'arte per la Chiesa, c'è un'attesa, anche se lui non è consapevole, c'è nei suoi confronti un'attesa da parte di tutti i fedeli. Ieri è stato ricordato come nel Medioevo non si esaltava la genialità dell'artista come individuo, ma c'erano tanti artisti nascosti, tante squadre, atelier che cooperavano insieme per la realizzazione di un'opera comune. Mi sono ricordata a questo proposito di uno di questi TED Talk fatto nel 2014 da la scrittrice Elisabeth Gilbert, quella che ha scritto Eat, Pray, Love, che in un modo molto simpatico spiega il disastro che è successo dal rinascimento in poi, quando abbiamo cominciato a attribuire la parola genio a un individuo. Prima il genio si capiva che era quello spirito che ti ispirava, quindi se hai fatto bene era merito del genio che hai un bravo genio, se hai fatto male era colpa di questo pessimo genio, quindi non aveva l'artista sulle proprie spalle tutto questo carico di sua personale, individuale realizzazione. Ecco, ma al di là di questa spiegazione divertente, se volete, la stessa cosa che ci dice Ratzinger nell'introduzione allo spirito della liturgia, dice, l'ispirazione non la si può decidere, la si può solo ricevere gratuitamente come un dono. L'arte quindi è un dono, non appartiene alla genialità individuale, ma alla forza della comunione. Non è l'espressione del genio individuale, ma di quello ecclesiale, comunitario, perché solo nella comunione, solo in questa intesa spirituale tra architetto, artista, parocco, comunità, falename, tutti quanti, si può veramente creare questo spazio di ospitalità che diventerà bellezza, che diventerà testimone visibile della salvezza. Quindi dalla Chiesa per la Chiesa. Concludo proprio un minuto con una provocazione che alla quale ho pensato ieri ascoltando professor Piniero, quando ci ha detto di guardare su Google, no? Che cosa ci dà come risultato bellezza, ecco questa bellezza epidermica, illuminata da fuori, questo non è un'opera d'arte, è un'immagine didattica, quindi stesso oggetto illuminato da dentro, quindi luce da fuori, luce da dentro. Per me questa rappresentazione mi aiuta a comprendere di cosa parliamo quando parliamo dell'estetica medievale e perché abbiamo bisogno di mirare oggi, cioè perché abbiamo bisogno di guardare oggi all'estetica medievale perché siamo alla fine di un'epoca che ci ha abituati ad osservare le cose come morte dall'esterno, come oggetti spenti. Oggi dobbiamo imparare di nuovo a vederle illuminate dal di dentro come cristiani, come battezzati, come fotismoi. Grazie. 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 Grazie.